Seconda volta storica in Ciociaria, arriva la Juventus, che emozione è per voi che avete il Juventus Club qui a Cassino? Beh, un'emozione sicuramente, una bella esperienza da vivere al nuovo stadio di Frosinone, comunque vada, speriamo sia una bella partita, perché comunque vada persone del posto, Juventini, Juventini occasionali, tutti quelli che abitano vicino a casa, quindi alla fine approfittano di questa cosa per andare a vedere la Juve, dai, se non arriva così vicino non ci vengono. È una bella sensazione, però sinceramente essendo abbonato da sei anni a Torino, a me mi hanno soltanto avvicinato una trasferta. Pratichiamo lo stadio, quindi Empoli, Bologna, Firenze, Reggio Emilia, Bari, Frosinone, per noi sono tutti uguali. Tu sai che hai scattato la caccia al biglietto, però per voi nessun problema perché già vi siete premoniti prima? Eh sì, essendo un club ufficiale, l'unico club del Cassinate, tramite il coordinamento che da quest'anno ha cambiato nome da Juventus Club d'Occa, Juventus Official Fan Club, tramite la società ci spettano i biglietti e ci rimandano, tutto qui, non è nessuna caccia al biglietto, ci spettano e ci ridanno, tutti qua. Quanti sarete? 23. 23 persone che tifano Juventus, ma un po' Frosinone lo tifate? Diciamo che ci fa piacere che il Frosinone stia in Serie A.